Via Libera della Regione Campania al finanziamento di 70.000 euro per il progetto di promozione turistica rivive il Borgo Antico. L'iniziativa punta a coinvolgere l'intero territorio di Giffoni Sei Casali con iniziative artistico, storico, culturali volte a rievocare le tradizioni locali in un'ottica di appartenenza alla comunità. Le manifestazioni messe in cantiere per l'anno 2018-2019 si svolgeranno sull'intero territorio comunale. Dal borgo medievale di Sieti ai casali di Capitignano, Malche e Prepezzano. Artisti, attori, abitanti e visitatori durante la manifestazione diventeranno un tutt'uno mescolandosi con sapienza alle antiche tradizioni locali. Ancora una volta è stato premiato il lavoro serio, costante e umile dell'intera amministrazione, afferma il sindaco Francesco Munno. Questa iniziativa mira a coinvolgere un territorio, quello di Giffoni Sei Casali, ricco di bellezze e fascino. Grazie. 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 Grazie.